Benvenuti ad Interview, l'opinione del personaggio del giorno. Ieri il mondo del trasporto ha registrato le prime vittime nel comparto marittimo relative alla crisi del Mar Rosso. Tre marinai sono rimasti uccisi e cinque risultano feriti per un missile lanciato dai rebelli Uti contro una porta rinfuse greca. La missione UE Aspides, di cui fa parte anche il nostro paese, protegge quotidianamente le unità italiane e vede impegnati vari comparti della difesa. I nostri microfoni oggi due qualificati ospiti interessati direttamente dall'evolversi del conflitto in Medio Oriente, il vice comandante generale del Corpo Capitaneria di Porto Guardia Costiera, l'ammiraglio Sergio Liardo e il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Grifi, che esprime i propri timori sui riflessi delle attività portuali. Ascoltiamoli. Noi facciamo parte appunto del Comitato Interministeriale sulla Sicurezza Marittima, è un ruolo nel quale noi rivestiamo anche una figura specifica, quella del vicepresidente, che è il nostro ammiraglio Giardino e il capo del sesto reparto. Abbiamo un ruolo in particolare che riguarda l'analisi e soprattutto la definizione dei livelli di sicurezza e di security per quanto riguardano le navi del nostro naviglio di bandiera. È un ruolo importante che svolgiamo con costanza, quindi è chiaro che in questo momento in cui esistono le aree di crisi, quella del Mar Rosso è una di queste ed è probabilmente la principale, quella che ha un impatto maggiore su quelli che sono i traffici diretti verso l'Italia. Noi ci riuniamo con periodicità proprio per offrire poi al COCIST che è un comitato che dipende dalla presenza del Consiglio le migliori informazioni perché poi possano essere prese le decisioni di livello politico. Il Mar Rosso ci crea preoccupazioni soprattutto sul nostro programma delle infrastrutture, di realizzazione di infrastrutture perché temiamo un effetto, diciamo, catena sull'approvvigionamento da parte dei nostri appaltatori o anche sui costi degli appalti. Siccome queste infrastrutture sono attese da tempo e sono necessarie e hanno già delle imprese che guardano con attenzione al loro utilizzo, ci dispiacerebbe che si rallentassero, ma speriamo che questo non accada ovviamente. Queste le opinioni del Vice Comandante Generale della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, ammiraglio Sergio Liardo e del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni-Griffi sulle conseguenze della crisi nel Mar Rosso. Appuntamento a domani per una nuova interview al personaggio del giorno.